Siamo oggi qui a cercare di mettere un po' di chiarezza riguardo la situazione del campo sportivo di località foresta. Perché? Perché in realtà ormai Chiaravalle è abituata a trovarsi con gente che per un po' di visibilità parla tanto per parlare e molto probabilmente se invece pur di non apparire veniva, si sedeva, parlava con noi, ci si poteva confrontare molto probabilmente e tante festerie non venivano dette come sono state dette. Perché dico questo? Perché vedete questa amministrazione da due anni e mezzo che sta amministrando questo comune e io sono arrivato al punto di dover dire che le nostre porte sono aperte, sono aperte a tutti quelli che vogliono contribuire alla crescita del nostro paese ma sicuramente non sono aperte a chi ha amministrato già questo comune e sappiamo come già lo possiamo toccare con mano la situazione drammatica che stiamo vivendo, le condizioni in cui si trova Chiaravalle, non possono venire queste persone che hanno già amministrato Chiaravalle a dettare a noi le regole, a darci dei suggerimenti, a tirare a noi le orecchie. Non possono essere assolutamente loro. Loro perché? Perché su tutte le varie vicende che noi oggi quotidianamente affrontiamo, le affrontiamo con coscienza e con responsabilità. Tornando al caso specifico del campo sportivo, io dico che bisogna anche cercare di essere informati su quello che succede in Italia e noi oggi siamo tempestati da manifestazioni, da richieste, da circolari da parte del Ministero, dell'interno per quanto riguarda la sicurezza che possono essere le manifestazioni pubbliche o per quanto possono essere, nello specifico, le varie situazioni di attività degli impianti sportivi. Queste hanno sconvolto in questi ultimi due anni quello che era il sistema che si viveva precedentemente. Oggi noi ci troviamo a dover dare delle risposte e delle garanzie su determinate situazioni. E' chiaro che nel momento in cui il Ministero ti scrive e ti manda i modelli organizzativi e procedurali, nel momento in cui la Prefettura ti scrive e ti dà le indicazioni di come le manifestazioni devono essere fatte, di come gli impianti sportivi devono essere gestiti e di quello che è necessario, è chiaro che noi allora iniziamo quell'iter di certificazioni necessarie a far sì che queste attività si possono svolgere. Nel momento in cui la Prefettura ti chiede l'agibilità dell'impianto sportivo, la prima cosa che l'ufficio tecnico ha fatto è stata quella di andare ad inoltrare, poiché nel nostro comune, quindi negli atti del comune di Chiaravalle, non esiste, non che è stato nascosto o non che non si vuole dare, perché mi si dovrebbe spiegare perché un sindaco o perché un ufficio tecnico tiene le carte nascoste, tiene le carte o le fa scomparire per non poterle dare. Qual è il motivo? Qual è l'interesse di un'amministrazione comunale? Quindi la prima grande fesseria e denuncia che in questi giorni è comparsa sulla stampa, che gli uffici nascondono le carte o che hanno fatto scomparire le carte. No, gli uffici si preoccupano della vicenda e gli uffici scrivono nell'immediatezza, quindi io parlo con una lettera datata 27 ottobre del 2017, e il 2017 chiedendo al Dipartimento Lavori Pubblici, settore tecnico regionale di Catanzaro, chiedono tutti gli atti riguardanti al genio civile della struttura del campo sportivo di località foresta. A questa lettera, datata 27 ottobre, scrive il 19 dicembre la Regione Calabria, a firma del dirigente, l'ingegnere Mario Buttiglieri, dove dice in modo chiaro che con riferimento alla vostra nota e via dicendo, per il periodo compreso 91-96, non è stato rinvenuto alcun atto specifico alla ditta comune di Chiaravalle per la costruzione riferita al campo di calcio. Quindi ci scrive il genio civile e dice che lì non c'è assolutamente niente. Ma non ci siamo fermati perché siamo andati verso altri uffici, nel modo specifico ci siamo recati presso la FIGC, la Federazione Italiana Gioco Calcio, e il CONI, per vedere se lì, negli atti loro, si potevano o meno trovare delle documentazioni che riguardavano il nostro campo. Quindi se c'erano in quelle documentazioni un collaudo per quanto riguardava la nostra struttura. Anche lì, accompagnato dal professore Antonio Ferrazzo, ci siamo seduti con il Saverio Mirarchi, presidente della Federazione, anche lì nessun atto per quanto riguarda il comune di Chiaravalle centrale. Quindi dove sono questi atti? Perché sarebbero scomparsi dal nostro comune quando in realtà nessun organo preposto ha questi atti? Gli atti non ci sono, gli atti non ci sono perché se c'erano eravamo noi i primi a toglierli fuori perché era nostro interesse dover andare a far sì che la squadra, la squadra di calcio o chi poi utilizzava quella struttura, poteva o meno avere l'utilizzo del campo sportivo. E nel momento in cui, altra sciocchezza che viene detta, si parla di ordinanza del sindaco di chiusura della tribuna coperta. Ma io dico, ma quantomeno collegarsi sull'albo, guardare gli atti, di quale ordinanza parliamo. C'è solo una lettera su una richiesta specifica da parte della società di calcio per quanto riguarda l'utilizzo del campo sportivo dove si invita e si dice alla società, nel momento in cui viene data l'autorizzazione che sono in corso le procedure per l'adaguamento normativo della struttura e pertanto nell'emore è assolutamente vietato l'utilizzo della struttura per un numero di persone superiori a 99 ed è inibito l'uso della tribuna coperta a firma del geometra Gulli, responsabile del settore quindi neanche del sindaco. Allora io dico, che cosa dicono? Che confusione vogliono creare ai cittadini? Questi sono gli altri. Autorizzazione a firma del settore, responsabile del patrimonio inibizione per la tribuna, quindi non accesso nella tribuna e nello stesso tempo un numero massimo di 99 persone. Per quanto ci riguarda la nostra amministrazione sia con l'assessore allo sport Sergio Carriere sia con l'assessore ai lavori pubblici Claudio Foti noi abbiamo fatto quello che ci competeva partecipare ad un bando per quanto riguarda gli impianti sportivi per una somba di 200 mila euro per cercare di chiudere questa vicenda una volta per tutte con il bilancio comunale con le casse comunali sicuramente non siamo nelle condizioni di poter andare ad adeguare quella struttura abbiamo partecipato ad un bando come abbiamo partecipato ad altri decine di bandi sperando che venga finanziato e noi, quello che abbiamo detto in campagna elettorale che noi con le casse comunali sicuramente non avremmo potuto fare niente quello che si può fare è se siamo bravi ad andare a fare, a partecipare a questi bandi e ad avere i finanziamenti. Questo è successo, anche in questo caso noi siamo presenti aspettiamo di poter avere una risposta positiva di un finanziamento per poter dare una volta per tutte mano a questa vicenda anche perché vedete le fesserie che vengono date non è mai stata fatta manutenzione vorrei prendere due atti così uno appena insediati di lavori di manutenzione straordinaria degli spogliatoi in località foresta sistemazione di spogliatoi e tutto il resto per una cifra pari a 2.928 euro successivamente c'è stato un altro intervento di manutenzione straordinaria per il campo sempre sportivo di località foresta per altri cifri di 3.400 euro quindi non guardano neanche le carte quando parlano che non si fa manutenzione straordinaria che non c'è controllo come se noi andiamo ad abbandonare quelle che sono le strutture che sappiamo che sono fondamentali quando si parla di attività sul nostro territorio quindi sciocchezze sciocchezze che non possono permettersi di poter uscire sulla stampa e in televisione dicendo delle cose che non stanno né in cielo e né in terra io questo non lo posso permettere specialmente da chi questo paese lo ha amministrato e se queste persone avevano avuto il collaudo in quegli anni che loro erano lì seduti perché in tutti questi anni l'agibilità non l'hanno fatta non dovevano aspettare il 2018 il 2019 e chiederle al sindaco donato perché in tutti questi anni non hanno fatto l'agibilità di quella struttura come non l'hanno fatta in tutte le altre strutture del comune di Chiara Valle Centrale quindi non permetto a nessuno di dare delle lezioni di queste persone che hanno amministrato e sappiamo come hanno amministrato il nostro comune a livello tecnico l'assessore Foti un breve passaggio cioè è bello quando si ritorna alla politica del passato perché la politica del passato ha avuto dei momenti di prestigio e di livello alto nel panorama chiaravallese ma dell'intera regione Calabria è triste quando due esponenti che hanno ricoperto per altri incarichi di sindaco per diversi anni e di assessore a lavori pubblici pur di attaccare l'amministrazione donato apostofandola come incompetente incapace e senza esperienza è triste dicevo quando si appellano a notizie false a notizie tendenziose per raggiungere maldestere noi respingiamo ai mententi questa accusa perché come diceva nella fase finale il sindaco siamo noi che poniamo a loro una domanda perché agli atti non risulta l'agibilità ci devono loro rispondere non noi andare a trovare devono rispondere perché non c'è perché purtroppo ahimè era una prasse consolidata di quei tempi non dotare le strutture pubbliche delle certificazioni di agibilità perché la stessa problematica ce l'ha il palazzo adesso uffici oggi chiuso ma un tempo sede di scuola media e di uffici dell'ASP e non c'è il certificato di disabilità non c'è mai stato la stessa problematica ce l'hanno tutte le strutture scolastiche presenti sul territorio la stessa problematica ce l'ha questa sede municipale la stessa problematica ce l'ha palazzo stagliano la stessa problematica ce l'ha il tribunale l'ex tribunale la stessa problematica ce l'ha alla struttura dell'ex ufficio del giudice di pace quindi era una prassi consolidata di quella politica non portare a compimento l'itere burocratico nella realizzazione delle opere pubbliche per poi poter predisporre da parte degli uffici preposti l'atto di agibilità oggi non c'è nulla questa amministrazione non ha nascosto nulla non avrebbe nessun senso logico nessun senso morale che significa nascondere le carte significa che io oggi inibisco l'accesso alla tribuna coperta per dire al cittadino se vuoi vedere la partita ti devi andare a bagnare nel momento in cui ci sono delle giornate di pioggia quello è lo scopo non rientri nella cultura di questa amministrazione per cui respingiamo con forza e determinazione queste accuse perché purtroppo in questi giorni veicolano da diversi settori la potrebbero definire come una matrice comune quello pur di atteccare l'amministrazione a Donato ci inventiamo l'acqua lunga ne approfitto per lanciare un messaggio ai cittadini perché giorno 18 metteremo una prima fine a questi attacchi sterili e tendenziosi che in questi giorni veicolano sui marciapiedi e l'invito a venire il 18 presso la sala di Palazzo Stagliano alle 17.30 dove il sindaco Donato ha indetto un'assemblea pubblica per rendicontare l'attività portata avanti con sacrificio con impegno e con passione da questa amministrazione rendicontando punto su punto cosa si è trovato cosa si è fatto cosa si sta facendo e cosa si farà e presentando la nuova giunta come da impegno in occasione della prima seduta di Consiglio Comunale anche questo è un tassello che porteremo a compimento dove nessuno ci credeva perché anche nella passata amministrazione non dobbiamo dimenticare che c'era questo accordo ma diversi lo hanno disertato e quindi invito non a venire a occupare le sedie perché a noi non interessano le sale piene per mostrare alla gente avete visto i cittadini seguono l'amministrazione Donato no noi invitiamo proprio coloro che oggi sono i primi che criticano questa amministrazione a venire ad ascoltare e a vedere con i propri occhi con atti e fatti l'attività che è stata posta in essere fino a questo istante e da quel momento trarre le personali valutazioni e le conseguenze per poter attribuire che è un'amministrazione che sta operando o se è un'amministrazione incapace ci confronteremo sui fatti e quel giorno sarà il momento dei fatti grazie Sergio sì quindi due parole per dire in effetti come stanno i fatti praticamente quello che ha esposto Mimmo Donato il sindaco mette in evidenza che noi ci muoviamo con la documentazione vera e propria noi ci siamo impegnati ad andare a vedere com'era la situazione e in questa mattina il sindaco l'ha esposta diciamo che ci siamo impegnati anche a cercare di tutelare i nostri cittadini avendo quella possibilità dei 99 posti per quanto riguarda la gradinata quindi non è vero assolutamente che noi abbiamo nascosto documenti oppure li abbiamo messi da parte noi ci siamo impegnati in ogni ordine e in ogni grado inoltre non voglio riavocare naturalmente personaggi preistorici che ormai nella nostra cittadina hanno fatto il loro tempo ma forse ancora non si sono reso conto che i tempi sono cambiati e i regolamenti sono anche cambiati e quindi oggi bisogna adeguarsi a quello che viene comunicato dalla prefettura dalla questura e così via dal ministero ringrazio tutti quanti e noi ci stiamo attivando per poter portare la risoluzione del problema Rubbo altri due minuti perché la nota stampa parla anche di un qualcosa che noi come ente consorziato con il consorzio del metano c'è nuovo non ne siamo a conoscenza non siamo stati informati si parla che del resto questa maggioranza non è nuova la creazione di allarmismi basta pensare al problema della metanizzazione dove è stata scomodata la fidanza quando bastava leggersi le carte relative all'ampliamento della rete gas noi non abbiamo scomodato nessuno noi stiamo oggi apprendendo che la finanza è andata negli uffici del consorzio del metano di Chiaravalle l'amministrazione comunale di Chiaravalle ha fatto tutt'altro l'amministrazione comunale di Chiaravalle ha evidenziato pubblicamente nelle assemblee non ci interessa dell'ampliamento dell'ampliamento è il presidente Pitaro e il segretario Maltese che addebitano al santo sessito delle responsabilità su quell'ampliamento addebitando a lui che se Chiaravalle ancora oggi non riesce a prendere quei proventi che erano migliaia di euro all'anno era per una politica sbagliata dell'allora presidente santo sessito che ha fatto un ampliamento che non ha portato dell'utile perché nessuna utenza si è andata a collegare non siamo stati noi allora il problema nostro era un altro detto nelle riunioni di assemblee che non riuscivamo a capire e questa è la denuncia che abbiamo fatto in assemblea e la faccio pubblicamente in televisione come quei bilanci che venivano approvati come giustificavano alcune spese come giustificavano la spesa del personale per cento centodieci centoventimila euro quando noi abbiamo due soli dipendenti di categoria C C1 che possono arrivare ad un massimo di cinquantamila euro di spesa sessanta ma già ad andare oltre e gli altri sessantamila euro dove sono? sono dei numeri messi in un capitolo e dove poi non c'era niente accanto dove non c'è un mandato non ci hanno mai voluto dare atti mi sono recato non più tardi della prima settimana di dicembre insieme al sindaco di Centra che Fernando Sinopoli insieme al sindaco di San Vito Sandro Doria insieme al sindaco di Torre siamo andati a chiedere ulteriori atti non ci sono stati dati questa è la realtà quale finanza abbiamo mandato noi? chi gli ha detto queste festerie? è peccato parlare tanto per parlare continuo a dire parlare tanto per parlare la nostra denuncia è questa e su questa denuncia le carte a me per andare lì ad attaccare quel modo di fare me le ha date proprio il presidente Santosesito me le ha date lui per far capire che loro non potevano assolutamente non darci i proventi che è improprio quell'atto e allora gli dico perché scrivere questi due righi che non sono assolutamente veri non sono veri non esiste che cosa è successo? quale atto? non è bello io dico continuiamo su questa strada per costruire qualcosa per Chiaravalle che non è per Mimmo Donato non è per Claudio Fotti non è per Sergio Carriere non è per Pinerizzo non è per Liberato non è per Stefania per Elisa per Brunello per nessuno è per i chiaravallesi allora diciamo la verità la finanza lì non l'abbiamo mandato a noi si devono preoccupare se è veramente andata la finanza lo apprendiamo da loro che la situazione è molto grave noi abbiamo lanciato solamente e tutti i sindaci abbiamo lanciato questa preoccupazione non avendo i proventi che ci toccano per diritto che cosa stava succedendo se era possibile che i soldi non venivano dati per i proventi e venivano dati per mangiate per incontri per pagare le serate a complessi per andare nelle piazze noi questo dicevamo se era possibile questo dicevamo quando a me il primo anno sono stato chiamato dal mio consigliere delegato il consigliere Corrado che il segretario Maltese lo chiamava per dirgli che gli avrebbe mandato il complessino d'estate e io gli ho detto assolutamente no noi vogliamo i soldi perché chiaravamo la necessità di soldi il complesso non ci è venuto e i soldi ci dicono che non ci toccavano e perché il cantante sì e i soldi no questi erano i dubbi nostri questi sono i nostri dubbi per quanto riguarda il metano né più e né meno e questo noi chiediamo chiarezza nella gestione di vedere i mandati di vedere se quel contratto di 23 mila euro fatto al segretario Maltese ha firma firmato che noi abbiamo se è un atto che era possibile fare per una persona che era in pensione e se è vero se fino al 2015 si è pagato lo vorrei vedere non è che io dico che si è pagato me ne guarderei bene c'è un contratto che è stato sottoscritto che è negli atti e che io dico è possibile che una persona che era in pensione ricoprire un ruolo e doversi anche poi pagare mi pare che la legge questo non lo prevede ma non ci è stato dato oggi mandato di poter controllare questa verifica non l'abbiamo potuta fare questo è il metano io dico perché scrivere delle fesserie venite qua ve le diciamo noi quali sono le verità sicuramente noi la finanza non l'abbiamo mandata sicuramente noi stiamo apprendendo oggi di un controllo della finanza al consorzio di materializzazione e devo dirvi che da ente e consorziato sono molto preoccupato perché a me il Presidente e gli altri con la quota maggioritaria addirittura non ci hanno detto che cosa sta succedendo in quest'ente e hanno loro l'obbligo di tenerci informati era giusto a precisare anche questo tipo di passaggio grazie grazie a tutti grazie a tutti